Le avventure di Marco Polo Ispirata come da titolo alla vita di Marco Polo e al suo milione Sigla fantastica degli Oliver Onions Era davvero curioso da guardare Perché era un mix tra disegni animati e invece sequenze documentaristiche Ed era un must per noi bambini dell'epoca Un must assoluto sia perché lo replicavano spesso Sia perché era anche molto bello da seguire In questo caso però c'è un motivo perché non viene trasmessa da tanto tempo Per problemi legati a diritti televisivi Perché se in effetti ce la ricordiamo ormai soltanto noi Che l'abbiamo vista all'epoca Avrebbe potuto entrare di diritto in quella fascia di cartoni memorabili Ricordati molto di più oggi come un Capitan Arlok o un Gundam Grazie a tutti!